A Firenze credo che divertirsi davvero sia cogliere la profonda fiorentinità e quindi sapersi lasciare andare agli aspetti più antichi anche della nostra cultura. L'osteria è il cuore delle vecchie tradizioni, è dove le persone si ritrovano, dove hanno la voglia e l'opportunità di spogliarsi da le maschere che la vita di tutti i giorni impone. Il nostro lavoro ha la base, la ricerca dei prodotti e l'attenzione alla stagionalità dei prodotti. La carne buona si riconosce dal grasso, un grasso molto bello, un po' scurino ma molto saporito, la parte del filetto e il controfiletto, siamo già nella parte in cui la bistecca è un pochino più piccina. Questo qui è un coniglio in stile medievale, c'è l'antica ricetta fatta con verza, pinoli e uvetta, la immancabile lassica ribollita. È molto buono. Lo amiamo in Italia, molte volte in Italia.